Questo atto è comunque un atto di prevaricazione in quanto sono iniziati dei lavori senza dare nessun avviso. Ho sentito sia l'amministrazione comunale, nelle persone dell'assessore al decentramento e anche del sindaco, i quali non sanno assolutamente niente di questo lavoro. Il sindaco mi garantisce che è un lavoro di ordinaria manutenzione rispetto alla massicciata, però voglio dire che in un clima così teso che si sa che Marco sta vivendo con il timore del discorso della TAV, credo che sarebbe stato opportuno dare comunicazione e spiegazione del tipo di intervento che si va a fare e comunque lo considero un atto di prevaricazione al di là di quale sia la natura dell'intervento. Grazie.